Nell'ambito del progetto MindNet si è riusciti a dare risposta a vari livelli di bisogno. La società attuale ha subito cambiamenti ma anche affrontato delle situazioni molto difficili e particolate. Da qui il bisogno di nuove figure professionali che siano in grado di affrontare le situazioni. Un bisogno che non ha riguardato solo il singolo, un singolo adolescente, ma che ha coinvolto anche la famiglia, la scuola, il territorio in varia forma e struttura. C'è sempre più bisogno, già da prima del Covid e sicuramente la situazione della pandemia ha peggiorato la situazione, di intercettare precocemente il bisogno dei giovani, la loro solitudine, la loro sofferenza. Perché negli ultimi anni abbiamo fronteggiato determinate situazioni grazie anche alla presenza di psicologi, pedagogisti e neuropsichiatri, grazie quindi ad un lavoro di squadra che ci ha consentito di appoggiare, di orientare e di supportare situazioni che in molti casi invalidavano e inficiavano il processo di apprendimento degli alunni. Grazie a tutti.